pronto pronto ok mi sentite avrò cappellato io stasera il microfono è affetto da morborani per cui morborissimi però questa volta ero pronto ero pronto ero pronto patachini allora buonasera a tutti e ben trovati con gli amici di mock bricks allora stasera il buon robbie dopo essersi fatto una trasferta ciao anche dalla germania il buon robbie è cotto completamente cotto è andato a venezia per registrare la voce di ottavia piccolo che è la voce di lei alla principessa leia per cui si è fatto un bel giretto ciao a tutti i ragazzi e stasera ovviamente era cotto in più stiamo lavorando per un'altra robina che ci cuoce abbastanza in più se tutto ciò non bastasse e diciamo che da ieri siamo ufficialmente ritornati nel nostro ambito di partenza ovvero babbi di nicchia robbie da grandi perché da ieri i ragazzi mio e di robbie vanno alla prima elementare per cui da adesso in poi sarà un macello totale globale mondiale grande fabione fabio joker che sospetto tu sia quel fabio allora allora stasera non so se faremo una riuscirò a fare una puntata di una retta perché comunque lato lego non c'è tantissimo di cui parlare in quello che è uscito questa settimana e quindi magari leggerò un po di più le domande rispetto come facciamo di solito per cui se avete dubbi o quant'altro voi buttateli che cercherò di leggerli e di essere un po più partecipe rispetto al solito l'audio mi sentite bene è un volume decente non parlo neanche fortissimo perché c'è il ragazzo che sta dormendo finalmente alle nove e mezza dorme santo di dio dorme andiamo esatto esatto siamo ancora siamo salvi adesso i bambini vanno a scuola per cui ore nove in punto si comincia il rito del letto dopodiché stoppa le telefonate è proprio nudo nudo proprio io allora 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 bene tienne lì pronte in caldo perché intanto luca facciamo un po di giro e voilà facciamo un po di giro con quello che è successo questa settimana lato lego e partiamo con un argomento che avrebbe dovuto in realtà ne avrebbe dovuto parlare robie ma ne parlo io perché poi sono uscite due giorni fa io ovviamente di star wars sono completamente a digiuno non chiedetemi nulla di star wars perché non ho la più pallida idea di che cosa sia quindi commento per quello che posso capire sono usciti su instagram i soliti leak testuali delle prossime uscite di lego partendo dai micro fighter dove avremmo il set di kylo ren del shuttle di kylo ren l'y wing micro fighter red y wing basato su episodio 9 quindi super spoilerone una minifigure sconosciuta gennaio 2020 questo è tutta roba di gennaio 2020 quindi il la prossima ondata del primo semestre 2020 banta v sky hopper micro fighter 198 pesti questo sarà un dual pack tie dagger ok 470 pesti qui invece non siamo più sui micro fighter quindi 470 pesti 80 dollari resistance x wing white orange coloring 761 pesti 4 più snow speeder quindi da bambini the mandalorian battle pack first order trooper battle pack anakin anakin verso obi-wan playset similar styles to including lava and two minifig droids ok quindi qui è la battaglia mi sembra di capire fra anakin e obi-wan boba fett helmet qui iniziamo a vedere cose interessanti che secondo me qui robbie vabbè che l'avevamo forse l'avevamo già detto che i prossimi busti come quello di vedere del seat trooper sarebbero stati boba fett e l'altro non mi ricordo qui e questo è la conferma quindi 625 pezzi questo potrebbe essere molto interessante lo stelo stormtrooper helmet giusto è vero è vero le avevamo detti qui ne abbiamo la riconferma di o break be similar to bb8 quindi una sorta di simil ucs del robot del nuovo robottino di episodio 9 e andiamo a vedere un po se mi dite qualche cosa voi io se vuoi da sparare ok ciao napoli viva per sempre a però esatto a però framas mattelis 71 grazie per il follow mi dico e questo è la sono le bombe di ieri mi sembra siano usciti questi leak legati a star wars star wars che continuiamo a parlare perché qui vediamo la scatola del dell'ucs dell'ultimo uscito per star destroyer e io scherzando in chat con robbie quando uscirono le prime foto gli dissi dai cerchiamo con robbie con samuel margherita gli dissi cerchiamo come è successo le altre volte non l'immagine piccolina nello sfondo del prossimo dell'ucs successivo visto che la leggenda vuole che ci siano queste immagini forse per coincidenza forse era voluto ma poi interrotto chi lo sa per cui prima con con samuel avevamo dato un occhiata poi sono uscite le indiscrezioni di stone wars mi sembra al che ho detto aspetta un attimo riprendiamo seriamente in mano l'immagine ufficiale della della scatola e diamo un'occhiata sulla parte frontale dove si vede lo sfondo dello spazio quelle stelle non c'è praticamente nulla mentre invece in questa parte qui ci sono alcune robine molto molto interessanti allora questa qui l'immagine della della press release ufficiale considerate che lego quando manda i press kit a tutti i vari gruppi manda degli zip da 2 300 mega perché ogni immagine pesa all'incirca 15 20 mega tanto è vero che questo è un 26 mila pixel per 24 per cui su mando si vede molto bene il dettaglio qui vediamo un'astronave dopo di che dopo di che abbiamo qua sempre sullo sfondo questa sorta di gru camminatore che sono tutti possibili se funzionasse nello stesso modo delle altre volte potrebbero essere tutti i possibili ucs prossimi abbiamo questa vi ricordo che l'immagine non è assolutamente modificata è quella originale del press kit e in effetti sembrano veramente appiccicati lì un po come a voler trarre in inganno magari anche perché questi dettagli qui nella stampa nella stampa della scatola poi chissà come vengono fuori qui li vediamo bene perché sono immagini da 25 mega ma nella scatola poi stampata chi lo sa e poi e poi abbiamo ce n'era un'altra eccolo qua e un altro transporter credo qua di sfondo quindi chi lo sa che sia uno di questi qui il prossimo cs oppure no staremo a vedere dopo qui abbiamo sempre delle degli anger di sfondo ma direi che forse l'angare un po eccessivo vediamo un po vediamo un po domani esce il nuovo imperial esatto domani cresce il nuovo imperial oggi le 17 si il 18 per i vip esatto domani potete chi è vip acquistare questa bestia qui per 699 euro e altri altri altre immagini in realtà non ce ne sono per cui queste potrebbero essere verosimilmente se leggo mantiene se era una cosa voluta se leggo mantiene quello che ha sempre fatto fino ad oggi potrebbe essere verosimilmente quello che potremmo trovare nel prossimo cs del prossimo anno proseguiamo eccoci qua partiamo subito a bombazza con davide che è come vedete qui era presente alla manifestazione modena nerd che c'era questo weekend con all'interno l'area lego gestita dai ragazzi di mobbrix perché ringrazio sempre per la mitica maglietta e che dietro riporta l'immagine della della ghirlandina che è la torre del duomo credo credo mi si sbaglio fabio di modena ricostruita e portata per la prima volta visione pubblica alla mostra e qui vediamo invece davide in arte idracore che ora vi recupero anche qualcosa di cui avevo scritto su brick now se vediamo subito e voilà eccoli qua questo ragazzo qui davide luccioli che portava tra l'altro un un ponte il ponte del del loresund costruito assieme a giuliano besti esagerato era a modena era una roba esagerata in più portava delle astronavi che ora vi faccio vedere un esempio tolgo questo eccolo qua c'era questa e c'erano altri modelli più una nuova versione strafighissime davide veramente ha un gusto esagerato per per le moc per per l'ingegnerizzazione veramente una gran testa ha fatto fatto dei lavori li aveva lì in esposizione strafighi ha creato una macchina che tramite una sorta di dremel attaccato dentro con controllo numerico che stampa sul mattoncino la scritta che volete una roba esagerata più altre varie macchine telecomandate più astronavi di di una figaggine totale astronavi che secondo me davide dovrebbe assolutamente proporre su shiptember se non l'ha ancora fatto io in realtà queste questi suoi modelli qui non li ho mai notati però in realtà quando c'è shiptember ce n'è una quantità infinita e modelli in questo caso qui che derivano per la maggior parte perché anche lui è un amante dal videogioco di homeworld 2 homeworld e homeworld 2 il 2 ha il design un po più un po più accattivante e tra l'altro notizia di qualche settimana fa è in in produzione hanno annunciato al games con di colonia il terzo capitolo della serie di homeworld per cui mi aspetto che escano fuori delle astronavi rivisitate ancora ancora più fighe di quelle che già avevamo visto e c'era anche questo pesciolino questo sottomarino steampunk un po con lo stile di jason allemand però fatto sempre da davide veramente meraviglioso vederlo dal vivo è tutt'altra roba rispetto a vederlo qui da questi video è veramente veramente figo bravo davide ancora vincitore del mattoncino assolutamente meritato già a bologna aveva dato prova di sé con alcune interessanti costruzioni ma questo giro si è veramente superato torniamo di qua voilà vediamo un po' abbiamo notato solo l'ultimo ok sarebbe bello come prossimo ucs un camminatore a t bello definito sì diciamo che tra i modelli da portare in versione ucs ce ne sarebbero secondo me veramente tanti e io non sono un estimatore di ok non sono un estimatore di star wars no come vi ho detto però non capisco perché comunque continuano a buttarla su pappa trita e ritrita e vabbè e qui vediamo la ghirlandina nella sua altezza tra l'altro l'ho appunto un po' segata veramente veramente tanta roba imponente bella bella l'idea di utilizzare i mattoncini usati per fare le facciate per dare l'idea del mattone un po' sporco bello bella la realizzazione anche della cupola della cupola finale il resto il resto è un sorta di parallelepipedo costruito in altezza però c'è da metterci sempre il tempo per recuperare i mattoncini e mi raccontavano i ragazzi che recuperare i mattoncini usati sembra una banalità ma non è così facile come sembra per cui c'è tanto lavoro dietro ci sono tante ore di persone che sono comunque messe lì a fare questo lavoro veramente veramente imponente trasportarlo farlo in modo che sia trasportabile perché poi uno non ci pensa mai ma incomincia a costruire va su va su va su e poi si trova che o cavoli come faccio questo qui a portarlo in giro che è un blocco unico per cui anche quello è molto molto bella anche la piassettina fatta con con questi faretti direzionali che su ogni su ogni facciata rendono veramente tanto veramente veramente figa bravi ragazzi in mock bricks bravo bravo fabio che ha coordinato un po tutte le operazioni stata veramente una bella esposizione eccola qua qui vediamo ancora meglio cupola che se ho capito bene correggimi se sbaglio fabio è stata sempre realizzata e ideata da davide sembra di capire che sia un po una sorta di deus ex macchina dell'ingegnerizzazione lego per cui quando c'è da da inventarsi qualcosa lui la tira fuori allora gettonato a tu tu cs ve lo auguro ciao simo forse cerchiamo nel posto sbagliato e se fosse qualcosa sul lato nero allora simo nel lato nero in realtà vi ho dato un'occhiata ma non si vede nulla potrebbe esserci un gioco di di riflessi piuttosto che di esposizioni per cui cambiando un po la luce modificandolo un po con photoshop magari qualcosa si può anche intravedere se lego facesse una roba del genere secondo me sarebbe molto apprezzabile una roba che magari apprezzano solo più una certa nicchia di nerd però non sarebbe male questo giochino da doversi portare a casa da lavorare con photoshop per tirarci fuori un qualcosa sarebbe una bella idea sarebbe un bello one more thing incide non stampa esatto scusami incide la plastica disegnando quello che quello che gli programmate e la top è l'arcadia c'era anche l'arcadia che se ricordo bene però l'arcadia era di giuliano o è sempre di davide perché ricordo la prima volta che ho conosciuto giuliano bezzi a bagna cavallo e aveva l'arcadia per cui non so se era sua o fatto in cooperazione con davide lo deve fare lo shuttle lo shuttle di kylo no quello idea stile nasa quello lo sperano tutti probabilmente staremo a vedere tra l'altro lì oggi ho letto una notizia un po' dopo ve la dico prima o poi che facciano endor gigante eh sì infatti i diorami enormi di endor solo gli sfigati li fanno allora proseguiamo con le foto proseguiamo con le foto un paio di foto quelle che ho recuperato da modena poi in prossimi giorni arriverà anche l'articolo un po' di diorami medievali molto molto carini molto belli un diorama in stile signore degli anelli poi finiti i medievali iniziavo la parte per questa tavolata qui di harry potter bello harry potter perché era bello ampio solitamente non ne vedo così grande non li vedo così grandi quindi di harry potter qui prendevo una bella fetta di angolo di tavoli molto molto carino col treno che ovviamente girava tutto attorno poi una parte di film dove c'era il diorama Batman di Fabio molto bello e poi qui vedete vedete Giuliano e qui vedete questo pezzo di ponte che è il ponte dell'Oresund di Oresund che collega Svesti e Danimarca che è quello famoso di 16 chilometri 8 fuori dall'acqua quindi quelli che vedete qui e 8 sott'acqua in un tunnel sottomarino costruito apposta e qui c'era la parte c'era non solamente la parte fuori dall'acqua ma tanta roba tanta roba perché qui lo vedete è su due piani qui sotto questa linea blu è il treno che passa sotto e qui vedete tutta la trama di agganci tecniche che sono i braccetti delle auto da Formula 1 le sospensioni dello sterzo tutti attaccati in una maglia abbastanza fitta tutta ben studiata con questi tiranti che poi passano per i piloni del ponte attraverso questi pin e vanno dall'altra parte per tenere su tutta la struttura è veramente esagerato e tra l'altro mi faceva vedere Giuliano che una volta smontato in realtà sta in una scatola normalissima non è una scatola gigantesca qui abbiamo le altre opere di Davide vediamo un po' intanto apro questi due link che mi ha girato il buon MoMA grazie Simo no Davide non ha partecipato alla progettazione della Ghirlandina ma è stato salvo ah salvo che ringraziamo Davide rimane uno dei top sì la cale di Giuliano ok perfetto avevo capito che era Davide che aveva fatto il cupolone finale allora vediamo intanto il link di MoMA eh MoMA anche te c'è un baster però quella è roba roba che scotta allora qui dicevamo abbiamo le nuove questa è la pulsar che vi davate prima nell'articolo di Brick House e queste sono le nuove realizzazioni di di Davide tutte con una parte che si muove quindi qui c'erano le i due anelli che ruotavano qui anche se ricordo bene queste erano statiche invece questa scena in stile stile homeworld dove c'è il il raccoglitore di risorse che sta portando un meteorite all'interno della baia di carico di questa sorta di stazione spaziale dove poi viene scomposto il meteorite filiata totale poi qui una sorta di giroscopio che ha continuato a girare per tutto il giorno qualche piccolo mezzo sempre di sempre di Davide qui abbiamo quello il sottomarino steampunk qualche altra opera steampunk un estrattore di petrolio e quelli classici da Nevada e qui la la zona sempre Davide di stile Mad Max dove vediamo la la Mustang trasformata in un mezzo sembra quello di Death Race con Jason Statham se vi ricordate se l'avete visto Death Race si chiamava sembra di sì questa questo diorama qui con questa struttura molto interessante e il robot il classico T-800 del maestro di Orange Team Andrea Montuori oramai onnipresente poi passiamo agli altri tavoli c'erano le opere di Fabio Filippi tema Ghost in the Shell che l'avamo già visto il grandissimo si chiama oddio 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 mi sono dimenticato Alberto Alberto Zauner esatto che a Ferrara se ricordo bene aveva vinto col passaggio di testimone da Luciano Brazzale a lui il mattoncino di Brickenhout perché tutti questi robottini che vedete qui li ha fatti questo ragazzino qui di dieci anni che è già sull'ottima strada per diventare un creatore di Mecha della Madonna qui alcuni diorami con alcune scenette tratte un po' da ogni dove vediamo un po' ci sarebbe anche Heidi no grazie Heidi anche no Andrew606 domanda ma tu sei Andrew Tansy così per sapere sarei molto curioso sono molto curioso qui altri diorami a tema militare la classica area Star Wars o immancabile oramai a ogni presente la zona Technic dove oltre a qualche set troviamo anche questa Vespa molto interessante e questi camionasti qui che avevo visto a Gardacon la prima volta veramente esagerati tutti belli chiusi belli carenati molto 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 figli molto molto e il GBC questo angolo di GBC che partiva da di qua e faceva poi tutto l'angolo fino in fondo fino a qua e poi il tavolone della City la City comunitaria un evergreen sempre verde che è sempre presente una parte di treni la stazione è molto molto bella veramente bravi e qui la consegna poi del mattoncino e anche qui un'altra un'altra chicca di Davide che in realtà ne ho visti in questi anni ma questa qui assieme a quella di mi è rimasta impressa assieme a quella di Federico Margutti lui ha fatto Federico il libro in stile Jason Alleman il libro delle favole di Jason e Grant con tutti i mattoncini che ha di ogni evento a cui ha partecipato mentre invece Davide si è creato questa astronave dove i mattoncini vengono attaccati su questi tubicini con le varie clip che vengono agganciate ad ogni mattoncino quindi è assolutamente modulabile e sta cosa della modularità me la fa impazzire è veramente figo solo che ora adesso devi iniziare ad ampliare questa astronave per attaccare niente degli altri perché poi è arrivato ad un certo punto si li vuole mantenere tutti però è veramente veramente una bella idea bravo Davide ancora complimenti poi passiamo ai progetti anzi passiamo ai link che ci ha girato il buon mom li vedevamo proprio in questi giorni da condivisi da Robby questa qui è la mitica DeLorean di ritorno futuro della Playmobil regresso al futuro veramente veramente figa è assolutamente incredibile e continuo a essere sempre più concorde con Robby che mi sembra allucinante che Lego abbia fatto due settini della fava perché sono veramente due set due uno è quell'idea orribile poi ci sono quelli di Lego Dimension e i Marty e Doc BrickHeads basta quando poteva tranquillamente tirarne fuori di ogni e invece si è fermata poi ti arriva un Dave Slater che rilascia le istruzioni su BrickWallt della sua DeLorean che è una sborata totale e poi ti arriva la Playmobil che va bene ma gamba tesa ti fa sto modellino che è spaziale spettacolare vabbè complimenti a Lego e Scooby-Doo Scooby-Doo vabbè Scooby-Doo Scooby-Doo lasciamo Roby io personalmente glisso sulla parte Scooby-Doo molto bene allora veniamo invece no mi si arriva il browser ai nostri progetti si è inspiegabile davvero ma non me ne capacito avevano licenze avevano tutto avevi già fatto il modello fai una cassa di UCS che ti frega fai come la Batmobile come la Tumblr no sono fermati lì sono morti perché evidentemente non credevano nel brand di Ritorno al Futuro complimenti perché avete avete la vista lunga allora allora qui iniziamo vedendo gli ultimi comunque i più votati di questa settimana è scomparso il il diorama di Seinfeld che è quella serie tv vecchia vecchia che è passato i 10.000 qualche giorno fa tenetevelo l'incanna perché non vi dico un'altra roba abbiamo sempre la stalla di Zelda la macchina da scrivere il Toronto Rocket Subway l'Acquario Home Alone McAllister House Winter Chalet di non mi ricordo chi ma italiano mi ricordo i nomi perdonatemi delle new entry rispetto al solito non ce n'erano ecco una cosa interessante a Modena Nerd nell'area vicino alla zona Lego c'era dei ragazzi di Roma brick 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 me li sono segnati devo farci un articolo assolutamente perché si sono inventati dei giochi di società fatti con i Lego loro nascono come associazione per giochi di società poi si sono trovati a inventare questo gioco di società e non avendo delle miniature già fatte o già disegnate o già costruite si sono detti ma usiamo i Lego intanto che sono alla portata di tutti e ci danno modo di espandere il nostro gioco hanno iniziato a mettere in campo minifigure pezzi e quant'altro si sono inventati un gioco basato su minifigure Lego ampliabili a dei livelli estremi strafighissimo ce lo hanno spiegato ed era veramente bello e un po' sulla falsa riga di questo anche se in realtà questo è diciamo così una copia di HeroQuest che uscì all'epoca e loro invece si sono inventati questi giochi che la modalità di gioco è quella classica una skirmish quindi una sorta di battaglia veloce più altre tipologie di giochi già conosciuti ma con un'ambientazione possono cambiarla in ogni momento passare dal western al cambio di minifigure con anche le minifigure quelle classiche delle collection con il cactus addosso delle regole basate su questi vestiti delle minifigure si sono inventate delle robe allucinanti che io che non gioco di ruolo mi è presa voglia di capire meglio di provarlo perché è veramente figo 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 bravi ragazzi uscirà un articolo perché è veramente interessante quello che hanno fatto allora invece torniamo noi perché perché seinfield vediamo se l'ho scritto bene forse seinfield no seinfield no proviamo proviamo a cercare su lego ideas seinfield eccolo qua seinfield trentesimo anniversario allora no non sono lui peccato Andrew speravo e il set di ritorno al futuro l'avremo presi tutti probabilmente allora seinfield trentesimo anniversario cosa succede succede che arriva a 10.000 in un battibaleno e cosa ben peggiore oggi mi trovo che mi trovo vediamo non prendiamo la concorrenza seinfield la serie comedy arriverà su Netflix perché chiaramente anche Netflix mi immagino avrà pensato come il creatore della mock 2019 trentesimo anniversario per cui in realtà era il 2018 direi dall'89 quindi 2019 perfetto trentesimo anniversario e nove stagioni anche Netflix ha detto beh trentesimo anniversario ci sta buttiamolo su di nuovo sta cosa però già che Netflix Stranger Things ed è uscito il set il progetto di questo di questo diuramino qui della serie tv va su in due settimane mi sembra è passato dai 5.000 6.000 ai 10.000 poi mi arriva la notizia che Netflix tira fuori di nuovo la serie a me mi fa venire un bruttissimo presentimento non so voi ma mi dà l'idea che questo sia un altro di quelli di quei giochini che magicamente ci troveremo come set creato da Lego ora non è che mi dispiaccia però continuo a dirlo e poi qui c'è un aneddoto che ho discusso con con Nicola Stocchi qualche giorno fa tra l'altro vedo adesso che questo qui è il set fatto da Brent Waller l'ideatore della caserma di Ghostbuster e della Ectum lo volete produrre Lego va benissimo ma non rubate slot non quello di Gun slot di altri set di progetti che potrebbero potenzialmente vincere e invece vengono bypassati da questi qui perché già dietro c'è un piano produttivo fatelo per i cacchi vostri dico io fate un set Lego Seinfeld punto fine come è stato fatto per Stranger Things adesso magari questo non succede magari non vince nemmeno però se mai dovesse succedere io mi chiedo ma perché dovete rubare slot appunto a progetti che avrebbero magari più diritto di questo qui di vincere quando questo invece ce l'avete già a piano per vostre idee ma vabbè sempre appunto su questa riga e qui farò felice il buon papo perché cosa succede succede che stanno uscendo le interviste ai creatori di dei progetti Ideas che sono entrati in ballottaggio che devono essere annunciati fra circa un mesetto un paio di settimane come vi dicevo passato un mese dalla chiusura della review normalmente annuncia gli vincitori della review precedente quindi fanno prima tutte le interviste ai vari autori e poi dopo l'ultima intervista ho visto che bene o male passano 3-4 giorni una settimana e poi annunciano i vincitori allora dicevo che Nicola Stocchi ha detto che è andato a leggere l'intervista fatta ad Aiden Pie del Cacapo del mitico Cacapo diceva che questo questo modellino qui era fatto era stato fatto e creato da lui perché questo tipo di uccello è a rischio estinzione è a rischio estinzione e quindi lo aveva creato sperando di arrivare a 10.000 è un po' come la storia del museo di Rio e per donare poi i fondi guadagnati con la 20 di questi set in beneficenza per la ripopolazione di questo tipo di uccello che per me ci sta assolutamente tutto ottima idea ottima la motivazione mi piace un sacco però come detto prima per il set di Seinfeld per me per me se dovete fare sta roba se avete intenzione di fare questo tipo di di operazioni mediatiche e di salvaguardia della specie fatela va benissimo fatela con tutte le specie del mondo di rischio estinzione ma non perché la dovete infilare dentro come dire come una scusante le gui di S sembra quasi una scusante per beh c'è stato il progetto di S allora facciamo sta roba fatela per i cacchi vostri e magari lasciate degli slot liberi vincitori ad altri progetti che potrebbero lo stesso vincere ma che vengono sul classati da un altro progetto che ritenete più meritevole benissimo ma i più meritevoli di questo tipo qua per queste scusante qui fatevele da un'altra parte e no lasciate magari qualche progetto un po' più interessante come ad esempio è successo per quei famosi quattro progetti che sono ritornati in ballottaggio dopo che Lego li aveva rivalutati quindi la stazione spaziale internazionale Stitch di Tyler poi c'era la sala giochi e Yellowman di Nathan quelli erano quattro progetti che rivisti con i nuovi criteri in realtà potevano tranquillamente entrare in ballottaggio finale per vincere il progetto di DS e all'epoca non vinsero poi li hanno ritirati fuori e potevano andare bene tutti e quattro in realtà per cui non vuol dire che se gli altri scarti vuol dire che Milikus potrebbero potranno mai essere prodotti vuol dire che ne hai trovati di più meritevoli per essere prodotti vabbè magari ci potremmo trovare fra qualche mese o anno di nuovo l'iniziativa fatta con quei quattro progetti me lo auguro in realtà perché era molto figa dopo aver valutato già tutti i progetti che potevano in realtà potenzialmente essere costruiti li ha fatti valutare al pubblico al popolo il popolo ha decretato e una volta che ha decretato quello sarebbe stato prodotto quella comunque è un'ottima iniziativa spero che venga riproposta per cui dicevo appunto con Nicola che nonostante tutto non è un brutto modello non è malvagio però dai no l'Ividea no porca troia è cazzarola vediamo un po' vediamo un po' Netflix ha perso la serie di due uomini e mezzo è rimasto senza comodi storiche per esempio HBO e altri servizi web cazzamomo sei oltre a lavorare per Lego lavori anche per Netflix Arco Giuda e Daie e sganciano un po' di soldi anche a noi che poi quelli di Netflix l'hanno annunciata è vero ma sarà disponibile dal 2021 si beh probabilmente con tutti i vari riadattamenti quant'altro un po' ci metteranno allora quindi progetti Lego Ideas in realtà non è cambiato nulla se non quello di Sanfield che è entrato a far parte dei 10.000 vediamo cos'altro c'era ecco attualmente i due i due set per la prossima review del set che si chiude il 7 di gennaio sono quello dei Queen e di Sanfield sempre su Lego Ideas però attenzione perché è uscito qualche giorno fa mi sembra domenica la bomba delle nuove regole mitico Nicola guardatelo qua il Planet Express è uscita la bomba dell'aggiornamento delle regole di Lego Ideas aggiornamento che però dice tutto e dice niente ovvero hanno semplicemente creato questa pagina in cui raggruppano quello che sta diventando Lego Ideas quindi le activities che vi ricordo sono quei contest settimanali che durano una settimana per mock veloci e rapide non si vince nulla ma se scegli la vostra mock la pubblica sui suoi canali social dandovele il merito ovviamente poi ci sono i contest che ormai riconosciamo e il Product Ideas che è il classico concorso Lego Ideas e qui vi danno una panoramica e vabbè questo mi sta bene poi dicono che stanno apportando dei cambiamenti per il flusso di missioni di invio dei progetti Ideas sulla piattaforma Lego Ideas ovvero nei prossimi mesi infatti qui non dicono la cosa strana qui non ti dicono ancora esattamente cosa hanno fatto cosa faranno ti dicono che ci stanno lavorando per fare in modo che tu che vuoi iniziare un progetto o vuoi provare a metterlo su Lego Ideas e quindi hai un progetto a metà lo vuoi completare prima di completarlo però dici cavoli ma posso poi metterlo su Ideas oppure no vogliono dare una sorta di va de me da quello che ho capito io fatto un po' meglio in maniera più puntuale di quello che si può o non si può caricare su Lego Ideas in maniera tale che tu poi non ci perda del tempo oppure che tu pensi che il tuo progetto possa andare bene poi lo carichi ti viene cassato e anche sul perché viene cassato vogliono hanno intenzione di dare definire delle regole ben precise perché così possono dirti guarda l'abbiamo cassato perché regola 7,4 dice che quella cosa lì non si può mettere faccio un esempio per cui stanno lavorando a questo a questo sistema che dovrebbe essere un po' più preciso e puntuale sul farvi capire cosa si può e cosa non si può mettere e qui fanno gli esempi di overlap with currently commercialized Lego products quindi il fatto che voi caricate un qualcosa che già viene prodotto e commercializzato da Lego ovviamente non va bene qualcosa già commercializzato come Lego Ideas non va bene quindi il sottomarino per fare l'esempio del sottomarino di Beatles o di Voltron qualcosa che non non si infila non fa parte del brand Lego Game of Thrones sesso e sangue Call of Duty guerra moderna contain no license conflict che ok contenga un qualcosa che contenga una licenza al suo interno che sia di proprietà di qualche altro brand tipo Monopoly Transformer quindi roba Mattel piuttosto che i giochi di società di altre case editrici qui vi fanno degli esempi e poi appunto dicono che stanno lavorando per fare in modo che questa cosa sia più comprensibile staremo a vedere qui in realtà poi non ti dicono nient'altro vanno avanti e dicono che hanno creato questa pagina di statistiche per chi carica i progetti in cui si possono vedere un po' tutti i vari step in maniera un po' più grafica un po' più comprensibile io non ho mai caricato progetti Lego Ideas quindi non so qual era la parte di statistica che c'era prima mi sembra carino ma personalmente ritengo forse anche per chi fa i progetti completamente inutile cioè se arrivi 10.000 bene se non ci arrivi pace chi se ne frega come ci sei arrivato tutto qua poi hanno aggiunto un'ulteriore categoria temi per la ricerca quindi anche qui fuffa completamente fuffa activities che è sempre quello che dicevamo prima questo in realtà non l'ho neanche letto perché proprio le activities è una roba che secondo me è una roba completamente avulsa e fatta solo ed esclusivamente per chiamarle idee agli altri però vabbè e poi lasciaci un feedback quindi niente di niente di non c'è tanta carne a fuoco in realtà in questo momento però però staremo a vedere poi che altra roba allora sono uscite le immagini del nuovo lavoro di david che è l'auto della polizia di quinto elemento che va a fare il paio con il taxi io sono ancora fermo allo spin di blade runner da finire ma lo finirò i pezzi li dovrei avere tutti piano piano li finirò ora è uscita anche l'auto della polizia strafiga come sempre david è sempre sempre un passo avanti davvero davvero bravo in tutto rapido efficace veloce numero uno assolutamente e di questo usciranno le istruzioni ovviamente e approssimamente il set lego l'hanno presentato non mi ricordo se ne avevamo parlato secondo me con robbie non ne avevamo ancora parlato perché doveva essere presentato poi il giorno dopo due giorni dopo poco da dire personalmente su questo set lego qui perché in realtà è un tema che non mi piace più di tanto carino l'aver fatto per i dieci anni mi sembra del tema natalizio se ricordo bene aver fatto questa sorta di omaggio questo era il set del 2015 piccolino che invece questo ce l'ho perché feci un acquisto quell'anno e quindi superai la cifra caruccio fatto bene sicuramente a livello di design ci sta tutto è l'ennesimo set chiuso da una parte aperto dall'altra per cui se vuoi chiudertela per bene la casa o ti addongi tu in qualche modo o vieni comprata due e la chiudete e poi ci sono le famose tre minifigure che loro in realtà dicono tre minifigure ma i minifigure in realtà sono due le avevamo già viste in più c'è il bambino stampato sul tile uno per due veramente orripilante vabbè e poi di molto figo ci sono in realtà questi mattoncini qui con il glitter all'interno che è un'idea molto molto carina brava lego su quello di quello gliene do atto veramente bello poi in tutte le loro pose questo qui sarà disponibile dal primo di ottobre e dal 18 settembre quindi da domani anche questo per i VIP da primo di ottobre per tutti ha la modica cifra di 94,99 come sempre grazie lego dove in germania invece 89,99 ma vabbè un po' come il LEM lunare vediamo un po' cosa mi dite allora in uso I love you grande Marco Frigo io I love you anche mi sembra che il progetto di Happy Days Arno su Ideas Zelda non rientrerebbe nell'ultima eccezione Zelda rientrerebbe probabilmente nell'ultima eccezione c'è sempre da dire da capire ma questo poi se lo inventano loro il fatto dei progetti già caricati un po' come è successo con la famosa barca del topolino della Disney era già caricato Disney in realtà era già entrato dopo come licenza vietata perché l'aveva in mano l'ego però il progetto era già caricato e loro ti dicono progetti già caricati possono comunque avere una piccolissima chance di vincere anche loro però non è detto che vincano per cui mi immagino mi aspetto che Zelda sia nello stesso giro se il discorso di creare un progetto di un brand non lego è un qualcosa di nuovo perché fino alle regole attuali non mi sembra che ci sia questa cosa qui però anche lì è abbastanza nebulosa può darsi che Zelda in realtà fosse assolutamente passabile e poi vedranno loro in fase di review finale mi aspetto che facciano poi anche come il giardino giapponese e Gravity Fall cioè una volta entrati in review comunque passati 10.000 te lo segano dopo per motivi non conosciuti interessante comunque la volontà di Lego di voler mettere chiarezza appunto questi dubbi che abbiamo anche noi e che tutte le volte ne parliamo in maniera ipotetica perché poi fanno tutto loro decidono loro bella quest'idea assolutamente incomiabile il fatto di voler mettere giù delle regole precise puntuali indiscutibili per cui tu l'hai messo su te l'han tolto perché te l'han tolto boh e invece no adesso te lo spiego per bene così è più chiaro anche poi per noi perché altrimenti è comunque tutto vago non intendo sì asbro no esatto esatto però adesso secondo me siamo ancora in un limbo in cui Lego decide ma non si sa bene neanche loro come muoversi in senso stretto ma se volessi un set con dentro tanto colore tan che mi servirebbe per fare un deserto che set mi consigliereste di comprare e che set ci sono ci sono che sono a tema egizio o deserto abbastanza recenti allora secondo me egizio e deserto recenti con tan non c'è più una fava se vuoi fare tanto tan per fare del deserto vai su bricklink vai per filtro colore e compri tutti i pezzi tan che ti servono è l'unica non vedo alternative anche il timeal mi sembra la riedizione credo che siano bianchi i pezzi non adesso ci guardo ma il timeal timeal Lego o forse sono tan attenzione attenzione sembrerebbero invece tan te lo dico subito luca questi qui perché io faccio così faccio redricable vado qui sbatto qua inventory direi che la maggior parte sono bianchi però c'è anche tanto tan in realtà 102 mattoncini no c'è anche del tan sì sì potresti puntare a questo time mark sono 5923 pezzi prima del dell'ultimo millennium falcon era il set con più pezzi al suo interno per cui potrebbe essere un'ottima idea allora torniamo a noi torniamo a noi bianco bravo fabio anche il castello di harry potter sì e poi l'ultima bomba invece di oggi hanno svelato questa questa nuova iniziativa Lego rebuild the world dove c'era Mark Ronson che ho scoperto oggi io chi è e sul palco oltre ai vari c'era la dirigente marketing quella biondina intervistata anche da Zuzan Mengibaut e c'era questo ragazzo qui David Aguilar che si è creato questa protesi Lego per sponsorizzare questa nuova campagna che personalmente io non ho ancora capito esattamente cosa sarà per spronare i bambini di tutto il mondo a trovare soluzioni a problemi visti dai bambini certi tipi di problemi che possono anche avere i bambini appunto visti da loro con i loro occhi trovare una soluzione a questi problemi per sviluppare la fantasia la creatività per renderli un po' più attivi in queste cose perché da loro studi se ho capito bene pare che la creatività dei bambini stia un po' andando scemando con probabilmente tutte le varie tutti i vari smartphone oggetti smart e quant'altro ci si sta ingegnando un po' di meno perché la tecnologia di oggi ci aiuta veramente anche troppo forse a volte vado a intuito no? per cui vogliono provare a ridare una carica al motore della fantasia dei bambini e quindi mi hanno messo in piedi questo rebuild the world che sarà immagino io una sorta di contest di challenge con premi e quant'altro per sviluppare appunto per far sì che il bambino sviluppi un'idea del mondo di come risolvere i problemi che poi gli dia un qualcosa indietro come appunto una vincita o quant'altro qualcosa che poi possa andare al bambino e infatti vediamo qui che dicevano the world economic forum future of jobs report places creative problem place creative problem solving quindi problemi di problem solving quindi di risoluzione di problemi creative problem solving cioè creatività scusate creatività per risolvere i problemi nelle top 3 nella top 3 delle delle skill delle capacità che il mercato del lavoro richiederà dal 2020 quindi dal 2020 si cercherà sempre più gente secondo appunto il world economic forum si cercherà sempre più gente ragazzi bambini adulti comunque che abbiano delle capacità di problem solving quindi di risolvere problemi in maniera creativa ed evidentemente questo è un passo in avanti di lego per mettere i bambini sulla carreggiata giusta staremo a vedere non ho chiaramente capito cosa potranno mai fare però vediamo vediamo un po' mi aspetto un po' un qualcosa sullo stile dei contesti lego ideas una roba simile un po' anche le activities che hanno fatto mi sembra di punto di capire che sia la loro la loro strada sia proprio quella di andare in questa direzione qua di metterti in competizione con altri per farti venire fuori delle idee carine dolce e coccolose Simone e comunque sui destri c'è qualcuno che ha il tasto voto 100 più ma guarda in realtà secondo me una volta che hanno tolto come dicevamo con Robi un po' di tempo fa una volta che hanno tolto tutte le domandine quando andavi a fare support che ti chiedeva mille cose adesso è proprio support e basta hanno implementato un sistema che in background loro dicono quanti voti deve fare quello 200 boom mandano su uno script che in automatico si schedula la pressione del support senza neanche premere ma proprio a livello informatico e va su di voti poi poi l'ultima l'ultima robina ovvero l'eventone perché poi che altro ah ok ho queste cose qui sì allora prima parlo di queste allora sono in preorder se siete interessati i due set di overwatch nuovi quindi la palla da distruzione e la trike gigante prenota subito disponibile dal giorno primo ottobre quindi questi sono prenotabili e poi da qualche giorno è prenotabile in realtà o è finita l'ordine del preorder oppure in Italia ancora no è comunque presente il mitico liber che dovrebbe uscire il primo di ottobre 449 euro 4108 pesi una belva gigante io ero intenzionato a prenderlo ma 449 euro sono una bella cifra al momento per cui lascerò perdere sicuramente quelli di overwatch ci prenderò però dicevi invece l'eventone perché si avvicina il momento la prossima settimana martedì sera partirò assieme martedì mattina non martedì sera sì martedì mattina partirò assieme ad alcuni ragazzi in Norton 74 Omar Rottoli e Francesco Sperafico di Tilug per andare alla volta di Skerbeck ci faremo un bel viaggetto in auto e sarà la mia prima volta a Skerbeck Skerbeck lo seguo da una vita perché credo ancora di averne letto le prime volte quando ancora stavo nella casa con i miei parliamo degli anni 2000 quando si chiamava Lego Fan Fest mi sembra piano 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 l'evento è cresciuto ed è sempre rimasto però in ambito halfwall tant'è che le robe però più fighe a livello di halfwall venivano io le ho sempre viste lì per la prima volta per cui non vedo l'ora non vedo assolutamente l'ora nonostante sia come mi hanno detto tutti una sorta di deserto perché attorno non c'è nulla però l'evento in sé e tutto quello che comporta sarà molto figo non vedo l'ora sono veramente gasato gasato tanto parecchio anche perché ho preparato due o tre chicche da dare in giro vediamo un po' se funziona se qualcuno se qualcuno le pubblicherà oppure no vediamo ma non si potrebbe portare non si potrebbe portare una statistica di voto vero e proprio da far per venire le lego sulle preferenze che gli adulti hanno sui set magari fuori da quello che è portare l'idea secondo me lego neanche ti caga sta roba qui non te la considera proprio per ovvi motivi di multinazionale che se stesse ad ascoltare tutti quanti sarebbe il finimondo per me hanno messo su in piedi questa cosa qui di Lady Deas proprio per cercare di dare un contegno a quello che potrebbero essere le proposte che la gente fa ok Fabio mettiti in fila per cui la vedo dura che qualcuno possa proporre a Lego un qualcosa di questo tipo e Lego la prende su e ci fa qualcosa poi magari ci sono anche quelli che riescono a farlo ma ho sempre il dubbio che sia gente che in un modo o nell'altro ha un contatto o in qualche modo per far pervenire la propria statistica a dei livelli più alti in Lego e allora a quel punto lì magari qualcosa si muove ma se me e te ci mettiamo lì raccogliamo duemila firmi diecimila firmi centomila firmi per strada e le mandi a Lego loro prendono la mail o quello che è la carta e la cestinano direttamente bene ragazzuoli allora dell'eventone ve ne ho parlato Scherbeck non vedo l'ora Scherbeck non vedo l'ora e volevo dare un'occhiata con voi ma già stasera c'era veramente poco nulla di leak su Instagram oltre appunto a quelli di Star Wars che abbiamo visto in prima battuta e no non c'è null'altro non c'è null'altro ecco un'immagine figa che adesso mi appare qui da Instagram ma che vi volevo mostrare legata a Rebuild the World che The World questo romagnolismo quindi martedì prossimo ma probabilmente addirittura o solo Roby da casa sua o addirittura solo Bissi da Scherbeck perché comunque vorrò tenere una una live costante da Scherbeck per per mostrarvele perché io personalmente non ne ho mai viste o se le ho viste erano tutte di tedeschi che parlano in tedesco e si chiedono a Ciolla per cui vorrei provarci i tedeschi ovviamente direbbero la stessa cosa di noi italiani ne abbiamo visti solo italiani ma non si capisce una massa vabbè comunque dicevo questa immagine qui per sponsorizzare Rebuild the World è molto intuitiva e vi fa capire esattamente qual è l'idea di Lego cioè non far costruire le cose classiche ai bambini quindi l'omino con il vestito da coniglio piuttosto che l'omino con il vestito da esploratore ma fare un qualcosa di creativo meschiando le due cose per tirar fuori una sorta di soluzione creativa a un problema come faccio ad andare a caccia di conigli se mi vesto da cacciatore e non ho nessuna arma oppure ho l'arma ma mi vedono che sono un cacciatore o mi vesto da coniglio ma non ho nessun'arma faccio un mix delle due mi vesto un po' da coniglio un po' da cacciatore in cui si ho le armi del cacciatore e il vestito da coniglio l'ho buttata lì questa proprio tirata all'ultimo però questa è molto carina dicevo da Skarbek vorrò vorrò sicuramente cercare di mantenere un contatto live costante per cui vediamo un po' cosa viene fuori da Skarbek dalla Lego House e sicuramente anche dal P-Shop staremo a vedere detto ciò ragazzuoli io vi saluto quindi se non avete altre domande martedì non penso sei arrivato no in effetti no hai ragione mamma perché partiamo martedì mattina prestissimo perché intanto io dovrò andare su lunedì sera a dormire su in zona nord o ne compagnia perché svegliarmi alle 3 di mattina per farmi 3 ore di autostrada ad arrivare su Milano non è proprio il caso martedì mattina partiremo ci fermeremo probabilmente ad Hamburgo credo per cui saremo su mercoledì quasi certamente per cui si hai ragione mamma martedì secondo me ve la vedrete con Roby molto probabilmente oppure addirittura quella settimana lì rimanderemo perché poi coprirò io durante l'evento di Scherbeck bene ragazzuoli detto questo vi ho dato un po' una panoramica vediamo un po' martedì se appunto se ci sarà Roby oppure rimanderà perché coprirò io nei giorni successivi detto questo vi do la buonanotte se non avete altre richieste particolari ci si vede da quel di Scherbeck ciao ragazzuoli e buonanotte ciao ciao